La vera sfida per chi si occupa di turismo e di promozione territoriale è diventato intercettare le esigenze e i criteri che regolano i flussi turistici globali. È finito il tempo in cui l'Italia, il bel paese, era la prima scelta a livello europeo per le vacanze estive. Tedeschi, inglesi, svedesi, norvegesi sbarcavano nelle nostre città turistiche come novelli conquistadores alla scoperta del mondo nuovo. Ora non è più così, siamo diventati la quarta, quinta scelta. Allora, viste le cose, diventa imperativo. Se si vuole salvare questo pezzo di economia, giocare d'anticipo, presentare programmi e novità il prima possibile. L'assessorato al turismo del Comune di Fano anche quest'anno ha delineato un programma di massima con gli eventi di più forte richiamo turistico e caratterizzante il territorio e promossi in un evento da ben oltre 3 milioni di visitatori nella città di Milano. È una kermes di tutti gli artigiani che vengono da tutto il mondo e vanno in fiera a Milano proprio per proporre i loro regali per Natale alle persone che vivono in Lombardia, che vengono dalla Svizzera, che vengono un po' da tutto il nord Italia perché considerate che questa è una fiera che fa circa 3 milioni di visitatori. Quindi quale migliore occasione per proporre la nostra città, la nostra realtà turistica? Quest'anno come gli altri anni, nonostante le difficoltà economiche, l'amministrazione non è voluta mancare l'appuntamento per cui ha delegato l'ufficio turismo di creare un proprio punto di rappresentanza dove venisse presentato al meglio il nostro territorio. Sul fronte degli eventi molte le conferme e alcune novità. Da quest'anno Notte Rosa a Dio non fa per noi, quindi meglio puntare su qualcosa di distintivo e unico e che magari possa anche intercettare qualche fondo regionale che, come si dice, fa sempre comodo. Un turismo in qualche modo che noi dobbiamo cercare di intercettare sempre di più. Nell'anteprima che è molto agile e che ha una copertina suggestiva con i nostri quadri, si cerca di dare la quintessenza dei tanti eventi che si fanno selezionandone per forza quelli migliori o più importanti dal punto di vista di audience. Ci sono i festival che si sono affermati, i festival di carattere letterario, ma anche quelle manifestazioni popolari che uniscono il divertimento, il tempo libero, l'enogastronomia, la cultura in un mix che la nostra città sa offrire molto bene perché non manca nulla a Fano. Tutto ciò che può essere lieto per un turista viene stigmatizzato nel piccolo Deplian in attesa del Deplian più consistente che uscirà prima dell'estate e che sarà, io credo, un importante veicolo, come ci dicono i turisti che apprezzano, per i cittadini e i turisti perché si può tenere in una borsetta o in una tasca e a dare continuamente l'aggiornamento giorno per giorno di quello che si svolge nella nostra città.